16 volte campione del mondo, 4 volte campione di coppia, 5 volte campione degli Stati Uniti, 2 vittorie della Royal Rumble e una del Money in the Bank, senza contare ovviamente i premi di riviste specializzate o gli Slammy Awards assegnati dalla stessa WWE. Stiamo parlando ovviamente di John Cena, quello riconosciuto da molti, soprattutto quelli della mia generazione, come il miglior wrestler di sempre. E non sotto un punto di vista tecnico, non per quanto riguarda la parte lottata della disciplina, ma per quello che è stato, sia per il mondo del wrestling che per la cultura pop, non solo a stelle strisce, ma mi permetto di dire globale. La WWE cambiò per sempre il 27 giugno 2002, quando un wrestler, allora sconosciuto, di nome John Cena, fece il suo debutto a SmackDown. Rispondendo a una sfida lanciata da Kurt Angle, Cena dichiarò audacemente che la sua qualità principale era la ruthless aggression, prima di schiaffeggiare sonoramente l'eroe olimpico. Il resto, come si suol dire in questi casi, è storia. Da West Newberry in Massachusetts, Cena ha sviluppato un amore per il wrestling fin da giovani, ispirato da figure come Hulk Hogan e Ultimate Warrior. Il suo debutto in WWE ha segnato l'inizio di una carriera che sarebbe diventata leggendaria. 16 regni la campione del mondo, una quantità spropositata di vittorie sul quadrato, ma non solo. È autore di libri che sono diventati best seller per il New York Times, un album rap di successo, numerose partecipazioni in blockbuster cinematografici, è recordman per quanto riguarda i desideri esauditi dalla fondazione Make-A-Wish, ma soprattutto è stato l'ambasciatore della World Wrestling Entertainment per due decenni. Quindi, meme a parte, se qualcuno di voi non riesce a vedere la grandezza di John Cena, beh, probabilmente non è la sua catchphrase a ingannarvi, ma siete voi che non avete aperto gli occhi. A più di vent'anni da quel giorno in cui Cena si presentò con dei boxer abbastanza inguardabili per combattere contro Kurt Angle, Cena è una vera e propria icona, ma pensate che, dopo quel debutto, e dopo aver ricevuto i complimenti dell'Undertaker, navigò un po' nell'incertezza, ebbe una faida con Chris Jericho e con Billy Kidman, ma rischiò seriamente il licenziamento, perché per lui non c'erano sviluppi creativi, il suo personaggio era anonimo, non aveva una connessione con i fan. Ma durante un tour europeo, John Cena e Stephanie McMahon ebbero l'idea di una nuova gimmick, dopo che la figlia di Vince lo sentì fare freestyle nel retro del bus che portava in giro le superstar. Nella puntata di Halloween del 2002 vestito come Vanilla Ice, iniziò a interpretare il Doctor of Toganomics, un rapper ribelle con catenozzi giganti, le canottiere delle squadre NBA, ma soprattutto una parlantina, in rima, molto ma molto provocatoria. E diventò una vera e propria icona non solo per la WWE, ma per la stessa cultura hip hop americana, che ha sempre preso molto dal mondo del wrestling, e lo fa tuttora. Questo video vuole essere un omaggio alla sua figura, non è un video biografico sulla sua carriera, sui suoi successi e sui suoi match. Le statistiche parlano per lui e per me. Dopo la chain gang ha adottato un personaggio più patriottico, più positivo, un eroe per famiglie e bambini, facendo suo il motto non mollare mai, never give up. Dopo pochi anni Cena riuscì a stabilirsi sulla cima della montagna del pro wrestling e nessuno fu in grado di spodestarlo, se non per sua stessa volontà. Come diceva lui Ma nonostante il suo enorme successo, Cena è stato anche un personaggio molto ma molto divisivo per i fan della WWE. Molti lo adoravano per il suo impegno sul ring, la sua personalità carismatica e la sua dedizione ai fan, mentre i fan un po' più hardcore o vecchia data che arrivavano dall'attitudera, lo definivano troppo pulito, troppo commerciale, l'uomo copertina per una nuova WWE. E come uomo copertina, ovviamente i suoi successi hanno oscurato il percorso di altri performer. In quel periodo venne cognato il nickname Super Cena, utilizzato per descrivere la sua tendenza a vincere in modo dominante o comunque a superare ogni difficoltà, spesso, come detto prima, a discapito di altri atleti talentuosi. Il gran merito di Cena è l'aver cavalcato le diverse ere della WWE adattandosi al prodotto che la federazione offriva, riuscendo a riflettere sia i cambiamenti della federazione che in maniera più ampia anche del panorama culturale che circondava il mondo del pro wrestling. Durante l'era della ruthless aggression, che abbiamo già sentito prima come catchphrase di un debuttante Cena, riusciva ad essere più crudo, ad allinearsi col pubblico più adulto, si distingueva per il suo stile provocatorio. Con l'avvento invece della PG era, Cena è diventato l'ambasciatore del prodotto per famiglie per eccellenza, massimo esponente dei cambiamenti delle politiche della World Wrestling Entertainment e simbolo dei valori positivi che, come un eroe di un albo a fumetti, riusciva a portare al pubblico soprattutto più giovane. Per molti infatti la storia con Cena è stata d'amore inizialmente, di odio nella transizione di mezzo, e adesso molti si sono riavvicinati con affetto al suo personaggio, comprendendone la grandezza una volta maturati. Perché Cena non era leader solo sul ring, prima ho citato anche l'extra wrestling come Make a Wish, come il successo ad Hollywood con Bumblebee, con la saga di Fast and Furious, con Suicide Squad, il cameo in Barbie, dimostrando di sapersi adattare in ruoli sia comici che un po' più seri, senza dimenticarci dei numerosi spot pubblicitari e della sua presenza in qualsiasi programma della TV generalista americana. Se mi seguite da un po' sapete che per me è il greatest of all time, come detto probabilmente perché sono figlio della sua generazione e non sarei qui su questo canale se non fosse stato per John Cena e per la passione che è stato in grado di trasmettermi quando ero un ragazzino. E ora voglio approfondire un po' i punti che mi portano a classificarlo come tale. In primis non ha mai messo in imbarazzo il business sia in maniera professionale che extra ring. Non ci sono mai stati scandali incredibili sulla sua figura che è sempre rimasta pulita, anche per quanto riguarda il lato professionale ovviamente ci veniva proposto come il vincente per eccellenza, ma chi ha lavorato con lui ne ha sempre parlato bene, mentre per esempio citando altri grandi del passato come Triple H o Shawn Michaels che attuavano un vero e proprio mobbing con la loro click, di Cena si è sempre parlato come un ragazzo d'oro con cui era piacevolissimo lavorare e ovviamente si atteneva alle direttive del team creativo, quindi non gli si può dire niente dal punto di vista professionale. Altro punto a suo favore nel dibattito tra i GOT è la sua solidità fisica, perché ora siamo abituati a vederlo poco, non siamo più abituati a vederlo settimanalmente. Ha avuto anche lui ovviamente degli infortuni, perché seguiva un programma folle tra tour, show settimanali e primi un live event, che allora si chiamavano pay per view. Però è sempre stato nella scena del main event ed è sempre stato in grado di offrirci una contesa piacevole da guardare, a prescindere dall'avversario, per non parlare poi della sua presenza scenica, del suo carisma, che infatti lo ha portato a ruoli anche extra-wrestling già citati prima. Ha sempre dato prestigio al mondo del pro-wrestling, non l'ha mai fatto passare come qualcosa di cartunesco, stupido o poco serio. Incarnava perfettamente la parola professional in professional wrestling. E dal punto di vista tecnico, per quanto suo parco mosse all'apice della sua carriera non fosse poi così ricco, sono ben note le Five Moves of Doom, con un bagaglio tecnico privo di voli incredibili o di manovre acrobatiche fuori di testa, è riuscito comunque a offrirci alcuni dei migliori match di sempre, come uno dei miei preferiti, ovvero quello con CM Punk a Money in the Bank 2011. Non ho citato Money in the Bank a caso, perché ovviamente devo collegarmi a quanto ci ha detto il bostoniano. Durante il primo live event di Toronto, il 2025 sarà il suo ultimo anno sul ring. Avremo dalle 30 alle 40 apparizioni di John Cena, sarà la sua ultima WrestleMania lottata, la sua ultima Royal Rumble lottata, la sua ultima Elimination Chamber, non so in che termini, se nello storico match o meno. Siamo pronti a salutare un grande pezzo dell'infanzia di molti appassionati del wrestling in Italia e nel mondo, perché il boom dei primi anni 2000 nel nostro paese c'è stato anche grazie a John Cena. È stato in grado di scrivere pagine indelebili nella storia del pro wrestling, in ogni sua sfida e in ogni suo match ci ha trasmesso la passione, la determinazione, il never give up, il non mollare mai. I suoi promo trasudavano i sacrifici, le lacrime versate per arrivare al top, in questo caso del pro wrestling, ma potremmo applicarli a qualsiasi discorso nella nostra vita. E proprio con un microfono in mano sono sicuro che ha ispirato milioni di fan in tutto il mondo, gli stessi fan che per più di vent'anni hanno potuto assistere alle sue gesta, memorabili o non, amato o odiato. Perché sarà pure uno show predeterminato, però se John Cena ci ha insegnato qualcosa è che la vera forza risiede nel non arrendersi mai, quindi volente o nolente è stato un faro di speranza per chi è cresciuto insieme a lui.